la diga del furlo non verrà svuotata per cercare il 19enne riccardo scomparso da un mese bimbo conteso il tribunale ha deciso il 14 novembre tornerà alla sua famiglia biologica alluvione 2022 cantiano contesta i metodi di ripartizione di risorse e ristori nuovi corsi al benelli si la distanza fra scuola e mondo del lavoro l'orchestra sinfonica rossini chiude il suo triennale con dieci grandi concerti benvenuti al nostro telegiornale rossini news apriamo questa edizione parlando della scomparsa di riccardo branchini 19enne di acqualagna è sparito dal 12 ottobre scorso con le ricerche che si stanno canalizzando attorno alla diga del furlo dove il giovane lasciò le sue ultime tracce oggi in prefettura si è tenuto un summit per decidere dell'eventuale svuotamento della stessa diga richiesto dalla famiglia per dare risposte ad un corpo che non si trova la diga però non è stata svuotata per i motivi che vi illustriamo in questo primo servizio si è tenuto questa mattina il tavolo di confronto tra il prefetto di pesaro orbino i tecnici e le autorità per decidere se svuotare o meno la diga del furlo alla fine di permettere ulteriori indagini nel canale con l'obiettivo di un'ulteriore ricerca approfondita del giovane scomparso settimane fa l'esito è però stato negativo per motivi legati alla sicurezza e non solo il prefetto ha tuttavia ribadito la massima vicinanza alla famiglia così come la costante ricerca ancora in corso di riccardo svuotare la diga completamente innanzitutto non è possibile perché nella diga continua ad arrivare l'acqua del fiume cantigliano quindi non si deve immaginare uno svuotamento come un campo di calcio dove poi si può cercare qualcosa ma è un luogo dove l'acqua continua ad arrivare la diga poi è composta da diciamo diverse zone che presentano dei coni dei coni molto profondi dove c'è materiale diciamo melmoso che anche qualora fosse diciamo prosciugata oltre la quantità che è stata già prosciugata grazie ad Enel durante i primi momenti della ricerca ma su questo il comandante dei vigili del fuoco può essere più preciso quindi se fosse ulteriormente prosciugata peraltro di poco rispetto al momento precedente non consentirebbe comunque proprio per come è costituita la diga in quanto non è in piano non consentirebbe la ricerca dell'eventuale del corpo di riccardo quindi lo svuotamento della diga porterebbe a un'esposizione di tutti gli operatori a un alto rischio all'impossibilità di raggiungere dei punti dove il corpo del ragazzo potrebbe essersi fermato oltre che a un danno ambientale rilevantissimo in termini di moria di pesce e di quant'altro ma soprattutto potrebbe non essere utile proprio al nostro fine. Tutto quello che noi potevamo fare fino a questo momento l'abbiamo messo in atto con tutti i nostri uomini e con tutti i nostri mezzi a disposizione quindi le ricerche sono state estremamente dettagliate e attualmente diciamo che non avremo altre possibilità di mettere in alto altre soluzioni di ricerca abbiamo ispezionato sia la parte a monte che la parte a valle della diga e quindi diciamo che con tutte le nostre forze e tutto il nostro impegno. Dalle ricerche effettuate non è stato rinvenuto nella diga nessun oggetto di appartenenza di Riccardo come ad esempio gli occhiali perché se fosse stato rinvenuto almeno un oggetto appartenente al ragazzo poteva esserci a maggior ragione diciamo la possibilità della presenza del ragazzo nella diga ma non è stato rinvenuto nessun oggetto quindi anche questo in base anche al piano delle persone scomparse che è ancora attivo quindi le ricerche non sono finite non ci sono più in quella zona perché in quella zona è stato fatto tutto ma continuano le ricerche e purtroppo se non c'è un elemento nuovo che motivi una ricerca ulteriore nella zona specifica ovviamente per noi è molto difficile. E restiamo su questo argomento perché il parere negativo allo svuotamento della diga ha procurato dispiacere nella famiglia Branchini che sperava di ricevere risposte da questa azione come ci spiega l'avvocato della stessa famiglia che continua anche a seguire le segnalazioni in merito alla pista alternativa di un ipotetico allontanamento volontario. Ascoltiamola. A seguito della bocciatura da parte della prefettura di svuotare la diga del furlo per consentire le ricerche di Riccardo nel corso privato dell'acqua l'avvocato della famiglia Elena Fabri ha espresso il suo parere in merito parlando soprattutto a nome dei genitori del ragazzo testimoniando il loro stato d'animo. La famiglia ci contava molto sullo svuotamento della diga perché sarebbe stata comunque una risposta una potenziale risposta, poteva essere anche persino un epilogo di questa vicenda e tuttavia c'è stato spiegato in persona dal prefetto il quale ha espresso tutta la vicinanza comunque alla famiglia per la delicatezza della situazione e anche per ciò che la famiglia sta vivendo in questo momento che anche uno svuotamento della diga non impedirebbe comunque il passaggio dell'acqua del fiume Candigliano quindi di fatto lo svuotamento totale della diga sarebbe in modo completo impossibile. La seconda cosa che ci ha tenuto a precisare il prefetto è che comunque ci sono delle zone come è stato detto e precisato dai tecnici, particolarmente melmose, che non sarebbero comunque raggiungibili quindi è evidente che anche un completo svuotamento della diga a quanto mi è stato riferito non consentirebbe comunque una ricerca completa in alcune zone perché metterebbe a rischio comunque gli operatori. La famiglia è dispiaciuta perché è una famiglia che comunque sta cercando delle risposte vivere senza sapere dove proprio figlio si trovi è qualcosa che veramente non si augura è un ergasso lo possiamo dire. Tuttavia ci tengo a precisare che ovviamente questo non significa che le ricerche sono sospese perché noi stessi insieme con la famiglia anche stiamo incaricando delle persone proprio per continuare a cercare Riccardo, anche delle guide naturalistiche si sono messe a disposizione per la zona e ovviamente proseguono quelle che sono le indagini sul piano investigativo nulla esclude ovviamente che Riccardo possa essersi volontariamente allontanato e trovarsi altrove. Certo è che ovviamente la famiglia ci contava nell'avere una risposta ma sembra che per motivi tecnici questa risposta non sia possibile al momento. Ed ora ci occupiamo di un caso che a Pesaro ha scosso sentimenti dell'opinione pubblica e sollevato interrogativi giuridici. Quello di un bambino di appena due anni e otto mesi che dopo due anni trascorsi con una famiglia affidataria fra pochi giorni dovrà fare rientro alla famiglia biologica come imposto dal tribunale. È un bambino che ha trascorso quasi tutti i suoi due anni e otto mesi di vita con una famiglia affidataria ma il 14 novembre dovrà fare ritorno alla famiglia biologica recidendo ogni legame con quelli che per due anni, 24 ore al giorno, sono stati il suo babbo e la sua mamma, i suoi nonni, la sua casa, il suo asilo, la sua città. In una petizione online che ha raggiunto 6.500 firme è stato ribattezzato Cacao, nome di fantasia per un bambino che rappresenta un caso che ha mosso sentimenti, coscienze e interrogativi giuridici. Un bimbo conteso fra due famiglie, quella di una coppia pesarese che accettò un affido a rischio giuridico e quella biologica composta dalla mamma e dai nonni materni, residente a pochi chilometri da Pesaro, che qualche mese fa ha vinto il ricorso in tribunale per riavere il piccolo con sé. Nel nostro ordinamento la famiglia affidataria viene totalmente estromessa dal procedimento inerente il minore. Tuttavia è previsto un ascolto della famiglia affidataria piena di nullità proprio anche per verificare il legame affettivo che si è instaurato durante il periodo d'affido tra proprio il minore e la famiglia affidataria e se del caso prevedere una frequentazione, il mantenimento di una frequentazione anche successivo al rientro del minore presso la famiglia biologica. Famiglia che comunque per due anni ha accudito in tutto e per tutto, 24 ore su 24, un bambino di appena due anni e otto mesi, quindi praticamente per tutta la sua vita. Questo purtroppo nel caso di specie non è avvenuto, gli affidatari non sono stati sentiti e questo ha comportato appunto una carenza della garanzia della cosiddetta continuità degli affetti. Soprattutto i genitori affidatari non sono legittimati ad impugnare questo provvedimento, un provvedimento che ha reso la Corte d'Appello d'Ancona che ha ribaltato il provvedimento del Tribunale dei Minori che prevedeva il mantenimento del minore presso la famiglia affidataria. La Corte d'Appello, basandosi sulla stessa CTU del primo grado e senza effettuare una verifica sulle condizioni della famiglia biologica, quindi che originariamente avevano portato l'allontanamento del bambino dalla famiglia biologica, ha invece previsto che il bambino dovesse rientrare nella famiglia biologica dal 14 novembre prossimo. In settimana il caso Pesarese è stato oggetto anche di un'interrogazione parlamentare rivolta al Ministro della Giustizia per portare valutazioni approfondite sul quadro normativo in materia. Ci auguriamo che sia l'inizio di un cambiamento che possa scongiurare e ripetersi di situazioni così gravose soprattutto per l'interesse del minore che dovrebbe essere al centro di tutto. Agli affidatari, ai genitori affidatari, non resta che sperare che la famiglia biologica collabori e non gli estrometta dalla vita del bambino proprio per la primaria serenità del piccolo. Ed ora cambiamo argomento perché anche questa mattina il personale della Guardia di Finanza è stato presente in Comune nell'ambito di un supplemento d'indagine per consultare dei documenti riguardanti l'inchiesta degli affidamenti del Comune alle associazioni Opera Maestra e Stella Polare. Non sono emersi ulteriori indagati al di fuori di Massimiliano Santini, Stefano Esposto e Franco Arceci sui quali si esamina l'ipotesi di un concorso in corruzione e dei dirigenti comunali Eros Giraldi e Loris Pascucci per i quali si ipotizza il reato di falso. E sulla luvione del 2022 mancano ancora troppe risposte su metodi emeriti nel riparto delle risorse stanziate. Un tema sollevato dal sindaco di Cantiano, Alessandro Piccini, che ascoltiamo in questo prossimo servizio. A due anni e due mesi dal tragico evento alluvionale che devastò parte della provincia anconetana e pesarese il 15 settembre 2022, la gestione della calamità naturale è tornata ieri in Consiglio regionale con il presidente Acquaroli e l'assessore Aguzzi che hanno fatto il punto sugli interventi messi a terra. A partire dai 430 milioni di euro stanziati con 175 in risposta a oltre 2.600 richieste di assistenza e ripristini. Una situazione emergenziale non priva di dibattito politico, soprattutto nei criteri di riparti di risorse. Emblematico ad esempio lo stanziamento di 12 milioni a pergola contro i due a Cantiano contestati dal centro-sinistra. Proprio il sindaco di Cantiano, Alessandro Piccini, interviene in merito ad una serie di questioni. La prima considerazione è sul metodo. Ecco, gran parte della discussione di stamani e dei motivi per cui abbiamo ritenuto di non presenziare fisicamente è stata legata a una contrapposizione ideologica di appartenenze politiche piuttosto che entrare nel merito delle questioni. La seconda è sul merito. Ci saremmo appunto aspettati che oggi, al di là delle contrapposizioni ideologiche, ci si desse risposta rispetto a alcune questioni, pratiche, alcuni dubbi, alcune proposte, richieste che abbiamo avanzato in questi due anni di azione amministrativa. A partire per esempio dai criteri e le modalità di riparto dei fondi alla base del piano del commissario, questo piano di 110 milioni di euro che individua delle priorità di intervento e attribuisce dei fondi in maniera completamente diversa tra comuni limitrofi che hanno dei danni spesso inversamente proporzionati al contributo assegnato. Avremmo voluto capire perché questa diversità di trattamento con l'Emilia-Romagna rispetto alle percentuali di ristoro a privati cittadini, prime case 80%, seconde case 50%, limiti di ristoro alle nostre attività d'impresa. Avremmo voluto capire perché si è tardato o perché non si riesce a mettere mano a quel supporto tecnico-amministrativo che chiediamo ormai due anni per affiancare le strutture amministrative, tecniche di piccoli comuni che si trovano a dover gestire oltre l'ordinario un'emergenza di questo tipo. Avremmo voluto capire perché stesse problematiche sullo smaltimento dei rifiuti, sulla ricostruzione delle strade, dei ponti vengono trattati in maniera diversa tra comuni limitrofi, sul perché vengono utilizzate le procedure di emergenza-urgenza in maniera più intensa in alcune zone e minoritaria in altre, sul perché i nostri beni monumentali, il Ponte Romano, la Chiesa Collegiata, sono rimasti indietri rispetto ad altre procedure di ristoro e di ristrutturazione di beni analoghi. Ecco queste le risposte che ci saremmo aspettati nel merito appunto delle questioni al di là delle ideologie e delle appartenenze. I consigliari regionali di Movimento 5 Stelle e Partito Democratico contestano l'istituzione della Commissione Interna sull'attività svolta da Atim decisa dal governatore Francesco Acquaroli che ha messo a capo della Commissione l'attuale direttore generale di Atim Stefania Bussoletti chiamata a controllare il corretto operato della stessa Atim diretta nei precedenti due anni da Marco Bruschini. Per i consiglieri di opposizione che avevano divulgato i filmati di uffici Atim vuoti in orario d'ufficio si tratta di una scelta che calpesta i più elementari principi di trasparenza amministrativa in cui non si fa nessuna distinzione tra controllato e controllore. Ed ora parliamo di scuola perché l'ultimo consiglio provinciale ha stilato la programmazione scolastica 2025-2026 accogliendo l'avvio di nuovi corsi richiesti dall'Ipsia Benelli. Novità che accorceranno le distanze fra scuola e mondo del lavoro e che ci vengono illustrate dal nuovo dirigente scolastico Raffaele Balzano. Raffaele Balzano dallo scorso settembre è il nuovo dirigente scolastico dell'Ipsia Benelli un istituto superiore che ora ha importanti prospettive anche in ottica futura infatti lo scorso consiglio provinciale di Pesaro Urbino ha dato diciamo l'ok all'attivazione di un ulteriore ampliamento formativo del vostro istituto. Sì abbiamo richiesto nuovi indirizzi e ovviamente la provincia al momento li ha approvati questi indirizzi riguardano sia i corsi diurni sia i corsi serali in particolare abbiamo chiesto servizi sanitari con la possibilità della qualifica poi al quarto al quinto anno e sia nel diurno che nel serale poi abbiamo chiesto un'attivazione per l'operatore informatico sotto mat manutenzione e assistenza tecnica e abbiamo chiesto un corso serale sugli ottici che abbiamo già attivato nel diurno con modalità a distanza. Ecco diciamo l'obiettivo è sempre quello di dare la percezione e le basi solide perché questa scuola accorce un po' la distanza con quello che è il passo successivo verso il mondo del lavoro soprattutto su professioni che hanno un mercato importante. Sì diciamo che noi il nostro compito è rispondere alle esigenze del territorio quindi prima di fare queste proposte abbiamo comunque ascoltato le esigenze di diverse aziende e di quello di cui avevano appunto bisogno all'interno quindi di queste professionalità in particolare per gli ottici abbiamo avuto una proposta da parte di un'azienda che già aveva un elenco di persone interessate appunto al diploma come ottico e che già lavorano presso questa azienda quindi si parla di corso serale. Poi ci sono relazioni importanti per quello che riguarda l'associazione di categoria università ETS Sì in particolare per il settore informatico che stiamo attivando c'è la possibilità di attivare un percorso 4 più 2 quindi la collaborazione con l'ITS che si aggiunge a tutte le altre collaborazioni che abbiamo già in corso. E restando in tema di formazione il sindaco di Pesaro Andrea Biancani ha ricevuto oggi il colonnello dello Stato Maggiore dell'Aeronautica Stefano Pietro Paoli in occasione dell'avvio dei corsi di cultura aeronautica rivolti a 200 studenti tra i 16 e 20 anni di 6 scuole pesaresi corsi gratuiti per un'iniziativa che coinvolgerà anche l'aeroporto di Fano e che comprendono una fase teorica e una pratica attraverso la familiarizzazione con il velivolo durante la quale i partecipanti saranno impegnati nelle procedure di imbarco e sbarco inerenti voli al termine del corso sarà segnato un attestato di frequenza valido a conferire punteggi di merito in determinati concorsi Don Luigi Ciotti parroco simbolo della lotta antimafia sarà all'Università di Urbino lunedì 11 novembre alle ore 11 in occasione dei 22 anni di attività della scuola di scienze motorie nella casa di reclusione di Fossombrone al polo didattico Petriccio terrà un alezio magistralis dal titolo una visione di speranza intervenendo assieme a docenti dell'Ateneo e alla direzione della casa circondariale sui benefici di studio e sport per la riabilitazione dei detenuti il 13 novembre al Mississippi di Gabice Mare Riviera Banca e lo stesso comune di Gabice organizzano il convegno dal titolo Benessere Transizione Sostenibile e ESG si tratta di un approfondimento sulle prospettive del turismo di Gabice in un percorso condiviso con Riviera Banca venerdì 15 novembre all'hotel Baia Flaminia di Pesaro torna la serata di grande ciclismo organizzata per la quarta edizione da Fisiorati Medical Center e Ca' Virginia per riunire fan esperti e giovani promesse del ciclismo in una serata all'insegna di aneddoti e una cena conviviale a coordinare la serata due grandi voci del ciclismo come Luca Gregorio e Riccardo Magrini che intervisteranno talenti italiani come Simone Velasco Filippo Baroncini Gianmarco Garofalo Maglio Moro e Rachele Barbieri e concludiamo quest'edizione del nostro telegiornale parlando di musica quella dell'orchestra sinfonica Rossini che completa le celebrazioni del suo trentennale lanciando una grande stagione concertistica al Teatro Rossini Si comincia il 29 novembre con Ottoni all'opera nel concerto presso l'azienda agricola dell'Eiva si chiude a maggio con la dodicesima edizione del concorso Giovani in crescendo in mezzo altri otto grandi appuntamenti concertistici che contrassegneranno la stagione di Sinfonica 2024-2025 a mettere il cappello conclusivo al prestigioso trentennale dell'orchestra sinfonica Rossini dai concerti di Natale Capodanno alle celebrazioni del non-compleanno di Rossini da Beethoven e Stravinsky fino alle musiche da film il tutto con le grandi direzioni di Roberto Molinelli Daniele Agimann e Riccardo Bisatti o straordinari interpreti quali Orazio Sciortino e Antti Vaitas saranno dieci gli appuntamenti tra grandi solisti internazionali grandi programmi ma anche la valorizzazione di un'orchestra che è del territorio ma sta conquistando un po' l'Italia e il mondo siamo al trentesimo anniversario quindi è un momento importante una stagione importante dal tradizionale concerto di Natale al concerto di Capodanno una meraviglia insomma non scontata per il primo per il primo dell'anno passando ad esempio per l'accento forte che ogni volta l'orchestra sinfonica mette sulle settimane del compleanno o del non-compleanno come sarà nel 2025 di Rossini non essendoci l'anno l'anno bisestile e anche l'opportunità con il 2025 che ospiterà l'appuntamento mondiale dell'istadio della musica unesco di uno scambio che l'orchestra sinfonica mette in campo con la Philharmonia del Luxemburg Orchestra quindi anche un altro scambio internazionale e quindi un appuntamento internazionale della città potrà freggiarsi di questo capiamo assieme a tanti appuntamenti come le musiche da film arrangiate da Molinelli altri appuntamenti con Harry Potter altri appuntamenti durante la stagione e l'importanza di questa stagione nella programmazione culturale di Pesaro capitale della cultura ma anche di Pesaro l'anno prossimo quando non sarà più nei fatti diciamo formalmente capitale della cultura ma in realtà potrà continuare una programmazione di grandissimo livello grazie allo sforzo congiunto tra Comune e Orchestra Sinfonica Rossini sarà il segmento pesarese quello che presentiamo oggi ma ne abbiamo altri sette sono otto più o meno i teatri su cui ci esibiremo in pianta stabile quattro di taglio medio grande come Pesaro Fano Senigallia e Monte Colombo e altri quattro un po' più piccoli come Pergola San Costanzo Matelica e Corinaldo sarà dunque l'azienda agricola Deleiva ad ospitare il 29 novembre l'ouvertour della stagione sinfonica azienda che nella conferenza stampa di presentazione ha omaggiato il trentennale dell'orchestra realizzando per l'occasione una produzione vinicola dedicata al prestigioso anniversario a noi come azienda agricola piace sperimentare e avere avuto la possibilità di realizzare questo prodotto esclusivamente per l'orchestra che verrà presentato proprio in un periodo storico perché comunque parliamo del 2024 Pesaro della Cultura e l'orchestra Sinfonica Rossini che festeggia il trentennale e qua il miglior modo per utilizzare appunto un buon vino per festeggiare queste due occasioni e anche noi di Rossini TV daremo spazio all'orchestra Sinfonica Rossini in una nuova stagione di un programma televisivo dedicato proprio ai concerti di questa bellissima orchestra intanto però restate con noi perché tra pochissimo potrete vedere un nuovo approfondimento dedicato a Pesaro 2024 in cui si parlerà di questo concorso dedicato agli artisti che avranno possibilità di esporre le loro immagini alla biosfera e poi in prima serata alle 21 andiamo a rivedere questa intervista che abbiamo fatto qualche giorno fa ad Enrico Rossi sindaco di Cartocetto proprio per ricordare anche a tutti voi che domenica ci sarà l'ultima serata l'ultima giornata di Cartocetto dopo questo festival che appunto celebra questo importante prodotto e poi domani vi aspetto con la rassegna stampa come sempre puntuali alle 7.20 ma dobbiamo anche ricordarvi che domani torna una nuova puntata di Insieme a Canestro quindi vi aspettiamo in diretta domani sera alle 21 guardateci perché potrete vincere i biglietti per la prossima partita di domenica e poi potrete vedere la partita che giocherà questa sera la Carpegna Prosciutto infatti questa sera la Carpegna Prosciutto giocherà a Udine e allora noi domani alle 22 vi trasmetteremo tutta la partita alle ore appunto 22 in replica anche sabato alle 15 e grazie per essere stati con noi buona serata